Alleluia, gloria, alleluia, 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 gloria Amen, il Signore sia lodato, volete accomodarvi? Adesso credo che siamo pronti per poter ricevere ancora una volta un ammaestramento da parte del Signore Amen Siamo pronti? Insieme vogliamo pregare per il fratello Giuseppe Affinché il Signore come ieri lo possa guidare per la sua santa e divina gloria Amen, vieni fratello Pascia a tutti Continuiamo con l'argomento di ieri Bella prossima slide direttamente Non vi devo augurare buona Pasqua, vero? No, è dall'altra parte Molto può accadere in tre giorni Ieri abbiamo visto lo Sheol svuotato e Dio voglia che le nostre chiese non siano chiese nello Sheol Ma chiese che vivono nell'attesa del ritorno del Re lavorando per Lui, Amen Oggi vedremo, vai ancora tutte e due, la tomba vuota e il credente riempito Allora, il terzo giorno Gesù ha lasciato la tomba vuota Che cosa straordinaria, eh? Buddha, Maometto, Confucio Tutti morti Non ci sono più nella tomba semplicemente perché si sono consumati Si sono decomposti Ma dicevamo ieri che poiché Gesù non ha conosciuto peccato La decomposizione, la morte Non poteva trattenere la vita Vedete il concetto è così bello, è così grande Che le parole vengono meno per descriverlo Cioè sarebbe come Che ne so io Prendere il dito, metterlo nella tazza di cioccolato E pretendere di conoscerne il sapore col dito E il tatto non è il senso deputato per riconoscere il sapore Ci vuole il gusto E così noi per comprendere la potenza della resurrezione di Cristo Non possiamo descriverla con i nostri sensi Con la nostra capacità di descrizione È qualcosa di troppo grande Perché capite Gesù è il Dio della vita È colui che ha creato la vita Ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lui Dice l'Apostolo nell'Epistole Colossesi Ed in vista di Lui Quindi è il Dio della vita E quando è morto È accaduto esattamente quello che succede per tutti gli uomini La morte ha cercato di inglobare dentro di sé E portare appunto come ha fatto nello Sheol Quest'uomo che era morto appunto Preso e portato dentro La morte ha cercato di abbracciare Di stringere E di non far muovere più Il Dio della vita Ma capite che poiché non aveva peccato La morte non aveva potere su di Lui E il terzo giorno Sapete che cosa è morto? È morta la morte Perché Cristo è risorto La morte non ha potuto trattenerlo Le catene si sono spezzate Ed è uscito da quella tomba piena di vita Egli è descritto spesso E anche ieri lo cantavamo Come il leone e l'agnello Vero? Però Non è proprio un'immagine veritiera Poi vedremo anche perché Però È bello Egli è il leone e l'agnello È il sacrificio che è stato accettato dal Padre Vai Ci mostrerà oggi Lo straordinario Nell'ordinario Nella vita del risorto Perché Gesù dopo essere risorto Ha fatto delle cose Che sono straordinariamente ordinarie E poi il cammino con il risorto E poi il soffio di Gesù Questo è un po' lo schema Delle cose che vedremo quest'oggi Quindi partiremo Da ciò che è più Teologico Per passare a ciò che è più pratico Nella nostra vita E in mezzo Ieri abbiamo parlato di ciò che cambia Nella nostra vita personale Oggi parleremo delle situazioni Che possono cambiare Mentre camminiamo con il risorto Oggi vedremo la nostra vita quotidiana Che cambia Nell'ordinarietà Perché Dio è straordinario Anche nella nostra ordinarietà E quindi comprenderemo Davvero perché Dio Può fare ogni cosa Nella nostra vita Il senso del miracolo Il senso del carismatico Il senso Degli ultimi tempi Vissuti nella potenza Dello Spirito Santo Insomma Questo è un po' Come dire Il sommario Di quello che vedremo Vai Innanzitutto Il sacrificio accolto Vai Vai Gesù si è presentato Al padre Il giorno Della sua crucifissione Come offerta E come offerente Era nello stesso tempo Il sacerdote Che presentava l'offerta E l'offerta Che veniva presentata Come offerta Ha dato Se stesso Per noi Come offerente Beh C'era bisogno Di un segno Di approvazione Allora Vai ancora Tutte e due Fallo uscire Come offerta Vi ricordate L'immagine di prima Il leone e l'agnello Ecco L'immagine Che viene evocata In Apocalisse Non è dell'agnellino Appena nato L'agnellino da latte No È proprio quella Di un montone Grande In Apocalisse Quando dice Vidi un agnello Che pareva essere immolato Parla di un montone E il richiamo È fortissimo Tra l'Apocalisse E il libro di Genesi Vi ricordate Chi incontra un montone Nel libro di Genesi Alzate la mano Chi se lo ricorda Abramo Proprio sul monte Moriat Incontra Un montone L'equicorna Quindi era grande Erano Erano Bloccate Dentro un cespuio Fra l'altro Qui ci sono delle cose Che veramente Ci si perderebbe Dentro A ragionarci Il monte Moriat Ha diverse alture Diversi E' un'altura Dove ci sono Diverse vette E la vetta Probabilmente Dove Abramo salì Con suo figlio Esacco E' la stessa vetta Sulla quale salì Gesù Il monte Calvario E sapete a che altezza Si trova esattamente Da terra? Più o meno Dove siamo adesso noi qua 777 metri D'altezza 7 7 7 Credibile No? Le cose che fa il Signore Comunque Su questo monte Lui è l'agnello E' il montone Di Dio Quindi un'immagine Che ci richiama Forza Non debolezza Non Ingenuità Come l'agnellino piccolino Ma Un montone Forte Che va E che si offre E che viene presentato A Dio Per il nostro Per l'espiazione Del nostro peccato Come facciamo noi A sapere che quel sacrificio E' stato accettato da Dio Perché Egli è risorto Perché Egli è risorto Dalla morte Se quel sacrificio Non fosse stato accettato Gesù sarebbe rimasto Nella tomba E l'anno in cui Gesù morì Fu l'anno in cui Si celebrò Come tutti gli anni Fino al 70 Più o meno Il giorno Dello Yom Kippur Sapete Cos'è lo Yom Kippur? Dove si trova Nella Bibbia Libro Del No Quello è il Purim Yom Kippur Si trova Esattamente A metà Di un libro Della Bibbia Del libro Del libro Meno letto Della Bibbia Qual è? Bravi Al volo A metà Del Levitico C'è Il giorno Dello Yom Kippur Il giorno Dell'espiazione Il giorno In cui Il sommo sacerdote Entrava Dentro Il luogo Santissimo E nel luogo Santissimo Faceva un'offerta Ora Dovete sapere Che la tradizione Ci informa Che il sommo Sacerdote Entrava Nel luogo Santissimo Quest'unica Volta All'anno E se il sacrificio Non era accettato Moriva Allora Siccome Ci si poteva aspettare Anche che il sacrificio Non fosse accettato Il sommo Sacerdote Entrava con una corda Legata al piede Perché così Nel caso fosse morto L'avrebbero tirato Fuori Senza dover Entrare Nel luogo Santissimo Ora Gesù È entrato Nella tomba Ed è uscito Vittorioso Non c'è stato Bisogno di nessuno Che lo tirasse fuori Hanno provato A inventare Qualche storia Dicendo Eh L'hanno rapito L'hanno portato via Hanno trafugato Il corpo No No È proprio Risorto Dalla morte Ed è interessantissimo Scoprire che All'orlo Delle vesti Del sommo Sacerdote Il libro Dell'Esodo Ci dice Ci informa Del fatto che C'erano dei Campanellini E servivano Proprio Per questo scopo Perché finché Il sommo Sacerdote C'era i campanellini Attaccati Nel luogo Santissimo Si muoveva Fuori Cosa si sentiva Un suono E il suono Ti diceva Che quel sacrificio Era stato accolto Ti diceva Che il sommo Sacerdote Era in vita E quindi Il sacrificio Stava andando bene Dio era d'accordo Con quello Che veniva offerto Cento punti Ma tutti Sti punti Che ci facciamo Niente Una batteria Di pentole Cento punti A chi trova Il suono Dell'approvazione Nel sacrificio Che ha fatto Gesù Quando si sentì Un suono Quando Si squarciò Però lì Il suono Di uno strappo Quando c'è stato Proprio un suono Si parla Proprio di suono Chi è Chi è che l'ha detto Forza 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 Prendete il coraggio Delle vostre responsabilità Delle vostre Suono Il suono Il suono Il suono di Pentecoste È il segno Che veramente Dio ha provato Il sacrificio La resurrezione Cristo è sceso Al cielo E lo spirito santo Che scende Sulla chiesa E che riempie i credenti Ed è scritto Si udì Un suono Quel suono Di campanellini Si sentì forte Perché suona Ancora oggi E se oggi C'è qualcuno Che non è battezzato Nello spirito santo Molto può cambiare In tre giorni Ecco Che cambi Questa condizione Torna a casa Battezzato Nello spirito santo Quindi Gesù È sacrificio Ed offerta Entra nel luogo Santissimo Davanti al padre Porta il sacrificio Il sacrificio Viene accettato Da cosa lo sappiamo? Dalla sua resurrezione E dalla discesa Dello spirito santo Queste sono le testimonianze Del fatto Che il sacrificio Di Gesù È efficace E per questo Noi diciamo Con l'apostolo Paolo Se non credessimo Alla resurrezione Se Cristo Non fosse resuscitato La nostra fede Non servirebbe A nulla Ma tutto cambia Perché egli è risorto E perché lo spirito santo È sceso Andiamo avanti E inizia Dopo la resurrezione Di Gesù Qualcosa di straordinario Nell'ordinario Quale fu la prima cosa Che Gesù fece Appena risorto? No prima ancora Proprio appena 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 risorto Quello l'ha fatto prima Mentre era morto Vicino 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 Vai La prima cosa Che Gesù Vuoi fare È piegare il bucato Prese il sudario E lo piegò Oh Sono risorto Ma la prima cosa Che faccio Fai mettere un po' In ordine Nesta tomba Che è tutto disordinato Lui piega il sudario Lucia è contenta Fai viva l'ordine E Gesù era ordinato Perché Dio è ordine Quindi io sono inguaiato E così avete saputo Cosa butto via Nel cestino di Poi Un'altra cosa che fa In un altro momento È quello di andare Dai discepoli E dopo che li incontra Dice Portatemi da mangiare Gesù mangia Quello lo farà dopo E infatti lo vedremo Quindi Gesù piega il bucato Gesù mangia Vai Ecco Il fratello diceva Parla a Maria Maddalena Sì Però Maria Maddalena Per chi lo scambia? Per il giardiniere Perché lo scambia Per il giardiniere? Cioè l'etichetta Giardiniere No Perché probabilmente Gesù si stava prendendo cura Delle piante In quel momento Quando Maria lo vede Gesù Sei l'ortolano Sei il giardiniere Dimmi dove l'avete posto Probabilmente Gesù stava facendo Esattamente Quello che faceva Il primo Adamo Prima della caduta Prendersi cura Del giardino Capite? Come sono collegate La Genesi Con l'opera Che fa Cristo Il primo Adamo Con il secondo Adamo Allora Gesù piega il bucato Gesù mangia Gesù si prende cura Del giardino Vai Gesù poi a un certo punto Lo ritroviamo In Luca Capitolo 24 Ne parleremo anche di questo Fra un po' Che fa cosa? Una passeggiata Oggi 11 chilometri Due ore Con i discepoli Sulla via De Maus Fa una passeggiata E poi Lo diceva Prima il fratello In Giovanni Capitolo 21 Gesù prepara Fa la colazione I suoi discepoli Che bella questa cosa I discepoli Sono fuori a pescare E a un certo punto Non stanno tirando su nulla Gesù gli dice Buttate la rete Dall'altra parte Quando buttano la rete Ancora non hanno capito Sentono la rete Piena di pesci Contano addirittura Dopo i pesci Quanti pesci erano? 153 Grossi pesci E mentre tirano su la rete Pietro si accorge Ma allora Gesù Si tuffa E gli va incontro Corre Nuota di corsa Verso Gesù Per raggiungerlo Arriva Perché vuole avere Un contatto diretto con lui E trova Gesù Che sta già cucinando Il pesce Quindi il pesce Che loro stavano pescando Non serviva a Gesù Ce l'aveva già il pesce Quello che noi facciamo Non arricchisce Dio E gli arricchisce noi Bello Allora vedete Sono tutte cose Estremamente normali Se le provassimo A mettere in ordine E' quello che facciamo noi Oggi giorno La mattina ci alziamo E Rifacciamo il letto Ci laviamo Prendiamo cura Della nostra igiene personale Poi Prepariamo la colazione Mangiamo durante il corso Della giornata Abbiamo le nostre attività Lavorative O di qualunque tipo E abbiamo le nostre attività Anche ricreative I momenti di comunione In effetti lì ci fu un momento Di grande comunione Quando Gesù spezza il pane E' un momento comunitario Un momento di comunione Fra i discepoli E Gesù Quindi abbiamo i nostri momenti Anche di comunione E con Dio Certamente Ma pure all'interno Della famiglia All'interno Del nostro gruppo Di conoscenti Di amici E' tutto straordinario Ma è tutto ordinario E' tutto normalissimo Lo fanno tutti Tutti hanno un gruppo D'amici Tutti fanno Vabbè Chi ha dieta no Però tutti mangiano Più o meno E tutti Salvo in Italia Per i disoccupati Ma anche chi è disoccupato Un lavoretto in nero Hanno un lavoro Tutti si prendono cura Ci auguriamo tutti di sì Della propria igiene personale E' tutto normalissimo E tu ti chiedi Ma Gesù Perché da risorto La Bibbia mi riporta Che tu fai queste cose normalissime Perché è nell'ordinarietà Che si manifesta La straordinarietà Della presenza di Dio E Dio non è con noi Solo quando siamo al culto Dio è con noi Dal mattino fino alla sera E' con noi Quando facciamo colazione E' con noi Quando stiamo a contatto Con i nostri amici E se non lo facciamo Perché so Lungo la via del mouse Ma lo facciamo Lungo la via di Facebook E Dio vede anche Quello che pubblichi Su Facebook E su Instagram Lo dico per i più giovani Magari Sì vabbè C'è anche mia mamma Non pubblica Lei guarda Su Facebook E' uno di quelli Che scorre Dio vede queste cose E' con noi Nella nostra vita Di ogni giorno Ogni momento Ed è nell'ordinarietà Che si vede Quanto straordinaria È la potenza di Dio Nella nostra vita E' quando stai a contatto Con i tuoi amici Che sei una lettera Vivente di Cristo Scritta per loro E' quando ti prendi cura Delle tue relazioni Che stai facendo vedere Che Cristo vive Veramente in te E' quando ti prendi cura Delle persone che ami Preparando per loro La colazione O preparando per loro Qualcosa da mangiare Che fai vedere Che stai Amandoli Come Cristo ama Ma davvero in queste cose Sì Davvero in queste cose La vita di Cristo La vita del risorto Deve permeare La nostra vita In ogni aspetto Dalla A Alla Z Anzi Dall'alfa All'omega Amen Quindi queste cose Sono straordinarie Perché si manifestano Nell'ordinarietà Andiamo avanti Il cammino con Gesù A proposito di tutte quelle scene Ne ho presa una Il cammino con Gesù Dei due discepoli Sulla via del Maus Vai Questo era uno di positive passaggio Perché l'immagine Mi era piaciuta Come conclusione Del Vangelo di Luca Tutto il capitolo 24 Del Vangelo di Luca È un racconto Di testimonianze Della resurrezione Questo racconto Si divide in tre tempi Primo tempo Dal capitolo 24 Dal verso 1 Al verso 12 La tomba È vuota E se il capitolo Finisse qua Al verso 12 Finirebbe con Il dubbio E con la paura Perché Gesù non c'è Nella tomba Ma dov'è? Che gli è successo? L'hanno portato via? È scomparso? È risorto? Boh Quindi c'è il dubbio C'è quella sensazione Di incertezza Di inconsapevolezza Però grazie a Dio Il testo va avanti E ci sono i due discepoli Sulla via del Maus E qui c'è il culmine Della storia Perché Cristo risorto Cammina con loro E gli spiega le scritture E poi L'ultima parte Da versetti 36 a 46 C'è l'apparizione Di Gesù Ai discepoli A Gerusalemme I due Che fanno Il ritorno indietro Che raccontano Anche loro Quello che hanno visto Perché ci si trasforma Dopo che si incontra Gesù Cambia tutto Prima durante il giorno Camminano E quando si inizia a far sera Dicono Fermiamoci Perché è sera Poi non hanno paura Più di nulla E si fanno di nuovo 11 chilometri di sera Arrivano praticamente A mezzanotte Ma quella mezzanotte Per loro È l'ora più luminosa Del giorno Perché? Perché hanno incontrato Il risorto E vanno con una Testimonianza straordinaria Da raccontare ai discepoli E non solo Da raccontare ai discepoli Evidentemente Una storia Che è rimasta cristallizzata Nella parola di Dio E che arriva fino a noi Ancora oggi Quindi c'è La trasformazione Di persone Che da Uomini spaventati Con dubbio E con paura Come adesso Magari anche vedremo Diventano missionari Per Cristo Hanno un compito Hanno una missione Da svolgere Le tre storie Appunto esprimono Una progressione Vai Nella prima Cristo non è più Nel luogo di morte Però è assente Nella seconda Si gioca Ed è riconosciuto Perché appare Discepoli Vai Vediamoci sto cammino Con i due discepoli Per Di Emmaus Allora Ci vedevano i due discepoli Sulla via Di Emmaus Poveretti Magari c'erano pure Undici decimi Ci vedevano Ma erano ciechi E guardate com'è divertente Luca è veramente bravo A scrivere A me piace tantissimo Il Vangelo di Luca È un capolavoro Usa questi Questi piccoli giochi Che ti fanno Ti lasciano un po' Quindi quel sapore Di umorismo Bello però Non ironico Così come faccio io È proprio quello bello Quello profondo I due discepoli Sulla via di Emmaus Incontrano questo sconosciuto E lo sconosciuto Che Gesù gli dice Ma Di che cosa parlate per via E loro Tu solo Non sai Quello che è accaduto A Gerusalemme La storia di Gesù Come Dio era con lui L'aveva unto E via A fare tutto il racconto E poi ad esprimere anche La pesantezza Che c'è nel loro cuore Ecco Noi speravamo Che sarebbe stato lui Che avrebbe potuto Risollevare le sorti di Israele Invece ecco qua È il terzo giorno Da quando è morto È vero Qualche donna Ci ha fatto un po' stupire Ci ha detto che il corpo Non si trova più Ma Le nostre speranze Ormai sono ridotte a zero Guarda stiamo andando cena a casa Andiamo in Maus Stiamo facendo Sto percorso Di allontanamento Da Gerusalemme No? È anche simbolico In qualche modo E E poi più avanti Tutto si ribalta Gesù dice a loro Dopo che le ha fatti parlare Posso dire una cosa? Lenti di cuore È incapace Intendere le scritture Non sono io che non so Siete voi che non sapete Vedete il paradosso Loro dicono che Gesù non sa Ma in realtà Gesù sa E sono loro che non sanno E hanno bisogno Di una spiegazione Per cui Gesù cosa fa? Una cosa che noi dovremmo fare sempre E che dovrebbe accompagnarci sempre Per la potenza dello Spirito Santo Prende la scrittura E interpreta la storia Capite? Guardate questa frase Molto profonda La scrittura Interpreta La storia E dona speranza C'è un'accento Sulla lì Va corretto Perché il correttore automatico Ha fatto un danno La scrittura Interpreta la storia E dona speranza Senza la scrittura La storia Ti può lasciare nel dubbio Vi ricordate Ieri parlavamo Degli uomini Che pensano Di schiacciare il pulsante Per dire fine Alla storia umana Ti lascia nel dubbio Tu Oh E se Putin Bombarda la Corea E Putin Se Trump Vabbè tanto Su prima E se Trump Trump bombarda La Corea Che succede Adesso che cosa Sta succedendo In Siria E la Cina Da che parte Si schiererà E poi Putin Ti lascia un po' D'ansia Tutto questo No? E se dovesse succedere Qualcosa Che sfugge Al nostro controllo Ci troveremmo Pure a dire Se non avessimo Questo conforto Che viene dalla parola Di Dio Ci troveremmo a dire Eh signore Ma che sta succedendo Signore Ma perché Tu permetti Tutto questo Adesso ho fatto Un esempio Grande Ma riportiamolo Nel nostro Nella nostra vita Domestica Quante volte Accadono delle cose Per le quali Chiediamo Signore Ma che sta succedendo Signore Ma tu mi hai davvero Abbandonato Signore Ma perché Hai permesso Che questa cosa Accadesse Signore Ma perché Stai permettendo Che delle ferite Così profonde Siano inferte Al mio cuore Quante volte Ci facciamo domande Di questo tipo E allora Gesù Prende la scrittura E con la scrittura Interpreta la storia Vi ricordate Quel mozzo Di mano Che scrive Sul muro Baldassar Il muro dove C'era Baldassar E scrive Menè Nessuno riusciva A capire Quello che Quella mano Profetica Scriveva Sul muro Della storia Ecco La Chiesa È l'interprete Che può Riconoscere Quello che è scritto Sul muro Della storia Perché ripiena Di spirito santo Gesù Interpreta Le scritture E questa interpretazione Dona speranza Loro nemmeno Se ne rendono conto Perché spesso Gesù fa così E io gli voglio Tanto bene a Gesù Perché fa così Certe volte Quello che lui fa Ti scalda il cuore Loro poi diranno Non ci ardeva il cuore Mentre ci spiegava Tutte queste cose Ma non se ne rendevano conto In quel momento E in quel momento Il loro cuore ardeva E non capivano Che stava cambiando qualcosa Nella loro prospettiva Se ne resero conto Soltanto dopo A volte Durante il nostro percorso Nel nostro cammino Non ci rendiamo conto Che Dio Già sta cambiando le cose E che il nostro cuore Già si è riscaldato Non è più un cuore freddo Ma dopo un po' Ci rendiamo conto E quando ce ne rendiamo conto Dice la scrittura Ti meraviglierò Di grandi meraviglie Restiamo così Meravigliati Della meraviglia di Dio Questo è il Signore Allora vedete La scrittura Interpreta la storia E dona speranza Il cuore che si scalda E poi qui vedete Gesù è grande Ci stava anche una menne Era un grande Riferito proprio Al grande come azione Però Gesù è grande E provoca i discepoli Se ci fate caso Nel testo Studiatelo magari a casa Perché è proprio bello Arrivati a un certo punto Arrivati verso il mouse C'è scritto proprio così Gesù Fece finta Di andare avanti Gesù fa finta A volte pure con noi Gesù fa finta Di fare delle cose Ma c'è uno scopo Gesù fa finta Di andare oltre Perché Gli ha spiegato La scrittura E adesso vuole Che ci sia Una reazione Da parte loro Vedete La parola di Dio Non serve Non serve soltanto A istruire Non serve A farci conoscere Ma deve trasformare La nostra vita E come si vede Quando la nostra vita È trasformata Attraverso Un piccolo test Attraverso Una piccola prova Gesù fa finta Di andare oltre Fa un passo oltre E vuole vedere Se quei due discepoli Lo lasceranno andare Come fanno molti Capiscono Magari stanno Un turno Mini turno Di campeggio Come questo Capiscono Determinate cose E poi Gesù Fa finta Di proseguire oltre Perché Vuole vedere Se hai la forza Di dirgli No Resta con noi Resta con noi Perché si fa sera Se l'avessero lasciato andare La mia ipotesi È che nel giro Di nemmeno 24 ore Sarebbero tornati Nella condizione morale In cui erano prima Anzi Vi dirò di più Una condizione peggiore Poi magari Accenniamo a questo Quindi La loro anima Si sarebbe Oscurata Invece Poiché Gesù Poiché Dicono Non andare oltre Vieni con noi Fermati Perché si fa sera Vogliamo passare ancora Un po' di tempo Con te Questa è la chiave Che apre tutto È la chiave Che trasforma Le situazioni Allora la scrittura Allora la scrittura Mi dona speranza Ma poi Richiede un'azione Da parte mia L'azione di dire Signore Voglio avere comunione Con te Voglio restare con te Signore Resta con noi Perché si fa sera E allora E allora poi Gesù si fa riconoscere Nell'atto comunitario Bello Perché Gesù Prende il pane E lo spezza Ora I due discepoli Molti hanno ipotizzato Perché qui Hanno riconosciuto I teologi usano Questo linguaggio E qui I discepoli Riconobbero L'evento Eucaristico No? Ma non c'erano loro All'ultima cena C'erano gli undici Non c'era Non c'era Cleopai Quest'altro discepolo Non è che l'hanno riconosciuto Semplicemente Perché ha rotto il pane Ah questa è la santa cena No Probabilmente Nel prendere il pane E nello spezzarlo Hanno visto il segno Dei chiodi nelle mani E lì in quel momento Gli occhi loro si sono aperti L'hanno riconosciuto E Gesù è sparito E qui c'è il miracolo Vedono Senza vedere Capite che Luca Scrive queste cose Circa Trenta Quarant'anni dopo Che queste cose Erano avvenute Ora Ci sono fratelli Che hanno più di sessant'anni Qui Sorelle che hanno più di sessant'anni Sì sicuramente sì C'è Giacomo Che ha alzato la mano Ok Immaginate E che erano convertiti 30-40 anni fa C'erano persone che 30-40 anni fa Avevano giocato il cuore al Signore Potete alzare la mano? Benissimo Ora Ricordate In questo momento Una opera grande Un miracolo grande Qualcosa di bellissimo Che avete visto 30-40 anni fa Mamma Non parlare della mia nascita Ci avete pensato? Ora Immaginate di raccontarlo adesso Capite? Luca non lo sta raccontando lì Mentre è successo Luca ha preso delle informazioni E ora le sta scrivendo Io immagino Luca Mentre prende queste informazioni Come si infiamma tutto Nel sentire questa testimonianza Di 30-40 anni prima E 30-40 anni dopo Quando Luca scrive Magari c'è qualcuno No? Che inizia a sollevare dei dubbi Eh ma sono passati 30-40 anni Sicuri che Gesù è risorto Perché ha detto che sarebbe tornato presto Ancora deve tornare Capite il senso? Iniziano ad esserci dei dubbi Ma sto Gesù che noi non vediamo Come facciamo a sapere Che è veramente con noi? E qui Luca gli dà una risposta Con questa storia Con questa testimonianza straordinaria Guarda che se tu anche lo vedessi Saresti cieco Se non hai fede Se non capisci la storia Alla luce della parola di Dio Se non sperimenti la comunione Con colui che è veramente risorto Ma se sperimenti la comunione Con colui che è veramente risorto Anche senza vedere con i tuoi occhi fisici Tu vedi che Gesù è in mezzo a noi Ecco perché noi riconosciamo La presenza di Dio Perché crediamo E capite il senso della scrittura Il valore della scrittura Non solo per noi oggi Ma anche per i lettori di allora Capivano che Gesù era davvero insieme a loro E queste due persone Come dicevo prima Da uomini che si allontanavano Uomini senza speranza Diventano uomini così carichi di una speranza Che nel cuore della notte tornano indietro E che diventano testimoni Per quanto possa essere scura L'ora della storia che viviamo Noi siamo testimoni di Cristo Se l'abbiamo veramente incontrato Andiamo avanti E per essere testimoni Atti 1-8 Ci dice Ma voi Mi sarete testimoni Quando Quando lo Spirito Santo Verrà su di voi Mi sarete testimoni In Gerusalemme Giudea e Samaria E fino all'estemità della terra Si impara la scuola domenicale Vai Il soffio di Gesù Matteo e Giovanni Capitolo 20 Il verso 22 A un certo punto Gesù entra a porte chiuse Sempre con quel corpo Che passa attraverso i muri Bellissimo Che avremo un giorno E Poi Dici Ma che te ne fai Andiamo a Gerusalemme Le porte sono sempre aperte Vabbè però Io vado dove c'è la porta Che non è aperta Voglio Dal muro Devo provarla Sta cosa Allora Il fuoco Gesù Soffia Sui discepoli Entra a porte chiuse Va da loro E fa Ricevete lo Spirito Santo Che cosa è successo In quel momento Secondo voi? Molti dicono In quel momento È nata la Chiesa Perché gli undici Ci hanno ricevuto Dentro di sé La presenza Dello Spirito Santo E poi sono stati rivestiti A Pentecoste Esternamente Personalmente E leggendo con attenzione Il testo E questo dico È personale È cosa che penso io Poi se vi piace Potete prenderla Se non vi piace Potete buttarla nel secchio Insieme alle cose di ieri Insomma Non c'è problema Lì non accade Nulla Se non Una spiegazione Di quello che avrebbero dovuto Attendersi Gesù soffiando su di loro Gli dice Gli sta dicendo Quando sentirete questo Il suono di un vento Impetuoso Che soffia Allora riceverete lo Spirito Santo Anche perché Fra gli altri In quel momento Giovanni capitolo 20 Tommaso non c'è E quindi Tommaso Quando l'ha ricevuto Lo Spirito Santo Un altro momento Quindi ci sono Delle incongruenze A livello letterario A livello Dottrinale Con l'altra interpretazione Però Poco cambia Ciò che avviene È che in quel momento Gesù Sta dicendo Che credenti Hanno bisogno Di essere riempiti Di Spirito Santo E vai Perché l'uomo Che viene liberato Dice Luca Al capitolo 11 Va anche Riempito Poi Perché se tu Non riempi Il cuore Svuotato dal peccato E poi Che succede Rischia che la tua condizione Diventa sette volte Peggiore di quella di prima Rischia di peggiorare Drammaticamente La tua condizione E allora Sto cuore Con cosa lo vogliamo riempire Signore Riempiamolo Con lo Spirito Santo Che ti rende Uno strumento Nelle mani di Dio Vai Ricevere lo Spirito Santo Nella Chiesa Del primo secolo Era una condizione Essenziale Non poteva Esistere Un credente Che non fosse Stato riempito Dallo Spirito Santo Lo diciamo Con termini Pentecostali Non poteva Esserci un credente Che non era Battezzato Nello Spirito Santo Tant'è che Quando Paolo Incontra in atta Il capitolo 19 I discepoli Di Efeso Qual è la prima domanda Che gli fa Prima ci parla Capisce che sono discepoli Ma capisce Che gli manca qualcosa Mi è mai capitato Di parlare con qualcuno E capire che Sì ma C'è qualcosa Che non Non mi risuona bene C'è qualcosa che E Paolo Preso da questa Incertezza Da questa sensazione Che avverte dentro Nei confronti Di chi gli sta di fronte Dice Ma Una domanda Ma lo Spirito Santo L'avete ricevuto Quando avete creduto No ma Noi non sappiamo Nemmeno che c'è Lo Spirito Santo Inizia a fargli La spiegazione Prega Impone le mani Su di loro E questi ricevono Immediatamente Lo Spirito Santo E parlano in lingue Profetizzano E manifestano Esteriormente Questa pienezza Interiore Che è stata Realizzata Quindi se Noi diciamo Perché lo diciamo Noi ci Noi vogliamo Tornare ad essere Alla Chiesa Delle origini Tante volte Sentiamo dire Ci rifacciamo Alle esperienze Della Chiesa Pentecostale Alla Chiesa Delle origini Se lo vogliamo Fare veramente Dovremmo Assicurarci Che ogni Credente Sia Ripieno Dello Spirito Santo Che sfida Ogni Chiesa Con Credenti Battezzati Nello Spirito Santo Non è Un optional Mamma mia Come faccio Mi viene in latino È una condizione Irrinunciabile Facciamo così È una condizione Irrinunciabile Andiamo avanti E quando Questo avviene Noi camminiamo Nello Spirito Affiancando Noi Il bisognoso Vi ricordate Prima abbiamo parlato Dei due discepoli Sulla via Prosecuzione Stefano Stefano è stato Lapidato Capitolo 6 I diaconi Sono scelti Capitolo 7 Stefano Viene lapidato La Chiesa Viene dispersa E uno Uno di questi Diaconi Arriva fino Alla città Di Samaria Perché vi sarete Testimoni In Gerusalemme Giudea e Samaria No? Quindi Chi è questo discepolo Che arriva fino a Samaria? Filippo Lì il Signore Inizia un bellissimo Lavoro Un bellissimo Risveglio Vengono anche Da Gerusalemme Per verificare Vedono che Questo risveglio Autentico C'è un mago Che aveva aperto Un bar Vabbè Lasciamo stare C'era un mago Che pure Si era convertito E voleva Il battesimo Nello Spirito Santo Ma lo voleva Per i fatti suoi Per essere Per essere Come dire Un taumaturgo Un guaritore Voleva lo stesso potere Che era tipico Degli Apostoli Ma Lì in quel caso Pietro gli dice Vada il tuo denaro Con te in perdizione Non ti permettere proprio Queste sono cose Troppo belle E troppo grandi Tu non le capisci No non torna indietro Eh bravo Vabbè Ormai c'è andato Eh C'è avanti e indietro E poi Lo Spirito Santo Parla a Filippo E poi dice Guarda Vai per la via di Gaza Lì Una via deserta Incontrerai Qualcuno Incontra un etiope Eunuco Ministro di Candace Il tesoriere Non il cassiere Il tesoriere Il cassiere Che stava ritornando Da Gerusalemme Dove era stato Per adorare E quindi aveva Un senso religioso E in questo caso Chi è il viandante È l'etiope E chi gli si affianca Gesù Filippo E perché Filippo Si affianca a lui Chi gliel'ha detto Vedete La chiesa Continua L'opera del messia Per mezzo Dell'opera Dello Spirito Santo Dentro di lei Se lo Spirito Santo Non guida la chiesa Noi rendiamo Il corpo del messia La chiesa Un corpo paralitico Abbiamo bisogno Che lo Spirito Santo Ci riempia Perché questo corpo Si possa muovere Vai L'etiopia Il posto dove veniva L'etiope Ci ricorda L'idea Di una terra Lontanissima Ed infatti Fin dove venivano mandati Fino all'estremità Della terra In questo caso L'estremità Della terra Erano giunte Fino a Gerusalemme E oggi Noi viviamo Nella medesima condizione Le estremità Della terra Sono arrivate Fino a noi Io ricordo ancora Che questa frase La scrissi In una tesi Nel 2002 E scrissi proprio questo Oggi L'estremità Della terra Si stanno avvicinando Sempre di più A noi Sono passati 15 anni E io Quello che dicevo Allora Era un pallido Riflesso Di quanto L'estremità Della terra Si siano veramente Avvicinate a noi In questi ultimi 15 anni Ormai Basta girarsi Tu Cioè I cinesi Gli indiani Gli etiopi La nigeria Hai veramente Qualunque nazione Qui Qui Accanto Vuoi fare il missionario Non è che devi partire Per andare in Cina Non è che devi partire Per forza Per andare in Africa Poi magari qualcuno Il signore lo chiama anche Basta che ti guardi attorno E ce li hai tutti qui E poi fare il missionario Capite Negli ultimi tempi Anche in questo modo L'accelerazione Del regno di Dio Viene promossa Perché queste persone Che arrivano qui Possono essere raggiunte Dalla grazia di Dio Quindi L'Etiopia L'Etiopia L'Etiope E l'Etiopia Evoca l'idea Di una terra lontanissima Poi La condizione Di quest'uomo È un uco Ci indica Una distanza Non solo geografica Ma anche di esclusione Dal popolo di Dio Il libro del Deuteronomio Dice che chi aveva Dei difetti In quest'ambito Non poteva far parte Del sacerdozio E doveva essere escluso Dall'assemblea Quindi Una condizione Di estrema esclusione E nonostante Lui fosse Estremamente escluso Va a Gerusalemme Per adorare Quindi c'è Un sentimento Religioso Sapete tutti Che cos'è un eunuco? Alzi la mano Chi non sa cos'è un eunuco Perfetto Te lo spiego dopo Se è solo tu Dai Ok Allora L'eunuco era Una persona Che subiva Delle mutilazioni Il più delle volte Per poter Servire Al re Ad esempio I re a quel tempo Avevano degli harem Persia Vi ricordate la storia di Esther? Avevano degli harem E A chi li affidavano? Dovevano affidarli A uomini fidati E come faccio a affidarmi? Capito? Dai Io tutto mi fido ciecamente Io e i luci erano così Quindi Quest'uomo Non aveva la possibilità D'avere figli Era un uomo Che non avrebbe avuto Una generazione Che avrebbe seguito Ed era per questo Anche Potenzialmente Escluso Dal popolo di Israele Poteva essere Un simpatizzante Nulla di più Vai E la strada Deserta Sulla quale era Parla Della condizione In cui quest'uomo Era realmente E la condizione Nella quale sono La maggior parte Degli uomini Che ci circondano E delle donne Che ci circondano Oggi Vedete Quest'uomo Aveva una bella posizione Un bellissimo Stipendio Sicuramente Ricchezze D'ogni genere Un sentimento Religioso Però Proprio come Quella strada Era deserta Lui non aveva Nessuno A cui avrebbe potuto Lasciare Quello che Aveva accumulato Lui non avrebbe Avuto una posterità Lui era solo E questa è la condizione Del mondo Che ci circonda Ricchi Dal punto di vista Tecnologico Dal punto di vista Sociale In molti casi In molti posti Ricchi anche Dal punto di vista Economico Magari anche Con un sentimento Religioso Ma incapaci Di Comprendere Il senso Della scrittura Lui su quel carro Legge il profeta Esaia E quando Filippo gli si avvicina Dice ma tu capisci Quello che leggi E dice ma come capisco Nessuno me lo spiega Quindi capaci di leggere Ma non capaci di capire Quindi hanno bisogno Di qualcuno Che gli spieghi Che gli dia Un'indicazione maggiore C'è bisogno Di una missione Della chiesa C'è bisogno Di una missione Del credente E con un deserto Dentro E senza un futuro Puoi avere tutto adesso Ma non avere il futuro Della vita eterna Il senso Della famiglia Nel popolo D'Israele Era proprio questo Questa trasmissione Della vita Che ti permetteva Di perdurare Nel corso Delle generazioni Capite? Era una sorta Di vita eterna Che tu avevi Perché generavi figli E figli Ecco perché Essere sterili Presso il popolo D'Israele Era considerata Una maledizione In quel tempo Perché era come Se tu fossi stato Rinnegato da Dio E Dio deve essere No, tu basta Non avrai più figli E spesso nella Bibbia Ci sono maledizioni Di questo tipo Non avrai posterità In un caso Addirittura E se l'avrai Saranno tutti effeminati Dice In una maledizione Che si trova Nel libro dei giudici Quindi Capite bene Che era qualcosa Di pesante Che veniva Veniva negato A quell'uomo E lui non aveva futuro E le persone Che ci stanno attorno Se non hanno Gesù Non hanno la vita eterna Che futuro hanno? Possono avere Magari anche Dieci 20, 20, 100, 1000 figli O nipoti Ma se non hanno vita eterna È tutto qua Quindi vedete Filippo diventa Il continuatore Di quello che faceva Gesù Con i due Sulla via del Maus E qui E qui ci sono Dei Filippo Che possono continuare Quella missione E qui ci sono Delle persone Che possono portare Altri A non vedere Gesù Ma ad andarsene Come conclude Quel racconto Con il cuore Allegro Per chi Aveva creduto E anche qui vedete Filippo Non appena spiega Non appena battezza Quell'uomo Escono dall'acqua E Bello anche lì La strada era deserta O a un certo punto Trovano abbastanza acqua Da far scendere Sia Filippo Che l'Etiope Dentro All'acqua Vede Dio poi provvede Quello che serve E Sparisce Scompare Filippo scompare Perché noi Dobbiamo scomparire Ma la presenza di Cristo Nel cuore degli uomini Che abbiamo portato a lui Nel cuore delle donne Che abbiamo portato a lui Deve essere Una gioia completa Una gioia continua Amen Andiamo avanti La dimensione carismatica Perché questo possa avvenire Noi abbiamo bisogno Di essere riempiti Di Spirito Santo E che questo Spirito Ci possa guidare Con potenza Vai Le potenti operazioni I miracoli Perché Dio li mette Nella nostra disponibilità Noi crediamo Che Dio È il Dio Dei miracoli E noi crediamo Che Dio Operi miracoli Attraverso la sua Chiesa Tutti d'accordo? Perché? Perché? Ieri fratello Marco Leggeva quel testo Di ebrei Dicendo che Dio stesso Aggiungeva La propria testimonianza A quella Degli apostoli Facendo segni Prodigi E miracoli Ma guardate Vai Dio ci dà La dimensione carismatica Perché è una caparra Di cose celesti E future È un'anticipazione Poi Perché è un contatto Fra l'invisibile Ed il visibile E perché La grazia È per i credenti Mentre i segni Sono per i non credenti Quindi queste opere La dimensione carismatica È grazia per i credenti Segni Per i non credenti Allora dicevo È una caparra È un anello Di fidanzamento La parola Greca Che si usa qui È arrabon Che significa Anello Si usa In greco moderno Per indicare L'anello di fidanzamento È l'arra È l'anello È la promessa Che Dio ti dice Io ti riempio Di spirito santo Ed è soltanto La promessa Di quello Che riceverai Quando avrai Un corpo glorificato E quando staremo insieme Per tutta quanta L'eternità Quindi è Un'anticipazione Poi è un contatto Fra il visibile E l'invisibile La fede Questo è Ebrei 11.1 Traduzione mia La fede È Aspettativa Fondata La fede È Ciò che rende Visibili Le opere Del non visibile Ve lo spiego Fra un attimo Vai Vai Vi piace Questo disegno Molto artistico E che è Boh Allora Abbiamo Un equilibrista E una pulce Luca Gianni Ci siete L'equilibrista E la pulce Allora Un equilibrista Cammina Cammina sulla corda Ovviamente Non sta così Così Come si muove L'equilibrista Cade No Se equilibrista Non cade Si muove Avanti E come si può muovere? Indietro Giusto? Se è proprio Bravo 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 Può fare saltelli Sul posto Ma proprio bravo Può andare Sotto la corda Immaginate Che su quella Stessa corda C'è anche una pulce La pulce Può andare avanti Può andare indietro Può andare a destra Può andare a sinistra Può andare sotto la corda Capite La prospettiva della pulce È molto più grande Di quella dell'equilibrista L'equilibrista Vede soltanto avanti E dietro Perché se vede un'altra cosa Vede la morte Poi dipende Se sta basso basso Non vede la morte Ma se uno si sloga La caviglia Però La pulce Invece Vede tutto Davanti Dietro Sopra Sotto E questo È quello che accade Anche nel regno spirituale Noi vediamo Solo una parte Delle cose È come se noi Fossimo l'equilibrista Sulla corda Vediamo soltanto Quello che ci è Immediatamente davanti Immediatamente dietro Non abbiamo una vista Che ci consente Naturalmente Di vedere Il reame soprannaturale Noi lo possiamo Vedere Per mezzo Dell'opera Dello Spirito Santo Che non è che ci riduce Alla forma di una pulce Ma ci mette Nella condizione Della pulce Di vedere Tutte quante Le dimensioni E che ci mette Nella condizione Per mezzo Dei carismi Dello Spirito Santo Di collegare Ecco perché ho portato Il foglio E la penna Il mondo Visibile Con il mondo Invisibile Allora Questa parte scritta È il mondo Invisibile Voi lo vedete? Sì perché Ve lo sto facendo vedere Ma se lo giro così Voi vedete La parte scritta? Voi vedete Soltanto La parte bianca Quella visibile A voi Ora se io prendo La penna E ci faccio Un buco dentro No? Si crea Un punto di contatto Fra dentro e fuori E se io prendo Le cose che stanno Qua dietro E da questo buco Le faccio passare Dentro Col mio dito Il dito di Dio No? È il dito di Dio Che buca E porta Le cose invisibili Nel mondo visibile E allora Qualcosa di straordinario Accade L'invisibile Diventa visibile E come può avvenire Che questo buco Si crea Per mezzo Della fede E come possiamo Noi Ricevere Questa fede Che buca E che permette All'invisibile Di diventare visibile Per mezzo Della pienezza Dello Spirito Santo Vedete È tutto così Estremamente semplice Che veramente Anche un bambino Lo capisce Perché noi Dobbiamo essere Come bambini Per capire queste cose E per poi Realizzarle Vai avanti Fine presentazione Perfetto Niente Vado Finito Allora L'essenza è Che quando L'invisibile Diventa visibile Allora Tutto cambia E Cambia In relazione Anche All'ambito Dove Opera Questa manifestazione Dell'invisibile Nel visibile Per quanto riguarda La Chiesa Noi crediamo Ai carismi Dello Spirito Santo Parole Di sapienza Di conoscenza Lingue Interpretazione Profezia Miracoli Opere potenti Guarigioni Fede soprannaturale Giusto? Sono questi Quelli che vengono Descritti Della parola di Dio Come carismi Bene Quando Dio opera All'interno Della Chiesa Per cosa lo fa? Secondo la scrittura Dio manifesta Dona i doni Dello Spirito Santo In particolare A ciascuno Come gli vuole Per L'edificazione Della Chiesa Perché la Chiesa Cresca Perché la Chiesa Non cresca di numero Anche a volte Quel giorno Furono aggiunti 3000 persone Alla Chiesa Di Gerusalemme Quindi anche di numero Ma soprattutto Di fede Di qualità E allora Un miracolo Di guarigione All'interno Della Chiesa A che serve A far crescere La Chiesa E' una ragione Sbagliata Cercare il miracolo Perché non voglio Affrontare la prova Capite Perché voglio Trovare una scorciatoia Venerdì ne parlavamo Con i ragazzi Alla Regione dei Giovani E ho fatto vedere Quel video in cui Lance Armstrong Sapete chi è Lance Armstrong? Non è il trombettista Non è nemmeno Il primo astronauta È il ciclista Quello che andò Da Oprah Winfrey E durante questo Questo spettacolo Confessò pubblicamente Di aver fatto uso Per vincere Sette Tour de France Di sostanze Dopanti Insomma Uno scandalo No? Un uomo che aveva Vinto il cancro Un uomo che era Considerato un esempio Un uomo che era Considerato una macchina Per quanto era forte Determinato Coraggioso Invece viene fuori Che aveva imbrogliato Ora Apro e chiudo Parentesi Nel ciclismo Si dopano tutti Sappiatelo Non ce n'è uno Che non prende il doping Però Chiusa parentesi In questo caso Diventa una cosa Eclatante Lo sanno tutti E allora È giusto Che quest'uomo Imbrogli Per vincere? E che differenza c'è Con un credente Che dice Signore Guariscimi Perché non voglio Passare per questa prova La motivazione Per cui stai chiedendo Il miracolo È sbagliata In questo caso E allora perché dovrei chiederlo Un miracolo Per l'avanzamento Del regno di Dio È una cosa Così chiara Nella Bibbia Così chiara Che non si vede Troppo chiaro Trasparente Gesù Gesù Mi servono Mi servono Mi servono alla Chiesa Per l'edificazione Della Chiesa Non per trovare Delle scorciatoie Ma perché il nome di Dio Sia glorificato Questo è il senso Del miracolo Nella Chiesa Per l'edificazione Della Chiesa Nel mondo Invece Ha un altro significato È un segno È un cartello Indicatore Che serve Al non credente Per vedere E dire Oh Ma veramente C'è Dio Oh Ma veramente Dio fa cose straordinarie E poi lì A quel punto Dopo che ha visto quello Lì c'è la sfida Gesù che fa Per andare oltre Finge Di andare oltre Per vedere se dice No no Voglio restare con te Oppure no vai Molti fanno così In quanti hanno visto segni Prodige Miracoli E poi hanno fatto spalluccia Hanno preso Quello che dovevano prendere In quel momento E hanno preso anche Una condanna più grande Su di sé E E sono andati avanti Per la loro strada Però molti altri Invece hanno visto segni Prodige Miracoli E hanno fatto Quello che ha fatto Tommaso Quando ha visto il segno Dei chiodi Nelle mani Nel costato Sono caduti ai piedi Di Gesù Dicendo Signor mio E Dio mio E questo ha cambiato Completamente Il corso della loro vita Ha cambiato completamente Il loro destino Quindi vedete Dal punto di vista Ministeriale Dal punto di vista Carismatico La potenza Dello Spirito Santo Ci guida In due direzioni Una per l'edificazione Della Chiesa E l'altra Per la conversione Dei non credenti Ma noi dobbiamo Dobbiamo essere Disponibili Affinché questo avvenga Per mezzo Della fede Ma questa fede Deve essere qualcosa Di soprannaturale Che Dio versa Dentro di noi E per poter versare Questa fede Soprannaturale Dentro di noi Noi dobbiamo essere Dei contenitori Ricettivi E per essere Dei contenitori Ricettivi Noi abbiamo bisogno Del battesimo Nello Spirito Santo Perché possiamo Ricevere il battesimo Nello Spirito Santo Torniamo all'inizio Perché il sacrificio Di Gesù È stato accolto Egli è risorto E quel suono Di Pentecoste È il suono Che possiamo sentire Ancora oggi Nella nostra vita Così come ieri Non vi chiedo Di buttare via niente Anzi stavolta Si tiene tutto Anzi Diciamo una volta Non si butta via niente Si tiene tutto In questo caso E Forse Qualcuno fra noi Oggi Sta facendo Il cammino Di Emmaus Si sente scoraggiato Per certe cose Ci sono situazioni Nella propria vita Che non riesce a capire Cose per le quali Si chiede Dio perché Oggi il risorto Cammina accanto a te Lascia che la scrittura Ti doni speranza Lascia che la scrittura Riscaldi il tuo cuore Se Gesù fosse rimasto Nella tomba Oggi non potrebbe Consolarti Ma se tu glielo permetti Si accosterà a te Parlerà il tuo cuore E ti inviterà Ti lancerà una sfida Entro questa sera Ne sono certo Una sfida Per la quale tu O lo lasci andare oltre O lo fermi E dici Resta con me signore Perché si fa sera E allora Ieri abbiamo parlato Delle cose spirituali Delle cose morali Delle cose che riguardano Noi dentro Adesso parliamo Delle cose attorno A noi Che ci possono scoraggiare Dio Oggi Può cambiare Molte cose Nella tua vita Non lo far passare oltre Quando passerà Accanto a te E sembrerà Che voglia andare avanti Oggi Fermalo E digli Stiamo insieme Gesù Perché tu puoi consolare Il mio cuore Perché tu puoi cambiare La mia prospettiva E poi La dimensione carismatica Signore Noi abbiamo bisogno Di ricevere Potenza dall'alto Fa che possiamo Andare via Da questo luogo Ciascuno Avendo avuto occasione Di ricevere Lo Spirito Santo E se già L'abbiamo ricevuto Signore Rinnova Ravviva Questo dono in noi Lo farò Con l'esempio Del lavandino Avete presente Nei lavandini Che c'è un buco Sapete come si chiama Quel buco Foro di trabocco Quando il lavandino Sotto Si sta riempendo Troppo 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 A un certo punto Da quel buco Inizia a uscire fuori Dell'acqua Vi è mai capitato Quando Avete provato A sturare Perché Ecco Noi pure Ci abbiamo Un foro Di trabocco Sapete dove si trova? Qua Questo è il nostro Foro di trabocco Quando il nostro cuore È pieno Dello Spirito Santo Dall'abbondanza Del cuore Parla la bocca Oggi Lasciamo che La presenza Dello Spirito Santo Riempie il nostro cuore E quando saremo Colmi Lasciamo che esca fuori Questa pienezza E saranno lingue Saranno profezie Saranno parole di conoscenza Sarà un dono di fede E magari Sentirei di andare vicino A qualcuno Pregare per lui E il Signore In quel momento Lo guarirà Perché Dio È lì Dio Dell'impossibile E vuole meravigliarci Di grande meraviglia Se questo è quello Che vogliamo Allora Noi vedremo davvero La gloria di Dio E molte cose Alla fine di questi giorni Saranno cambiate Ci alziamo in piedi E ringraziamo il Signore Alleluia Padre noi Benediciamo il tuo nome Insieme Perché sei risorto E perché hai mandato Lo Spirito Santo Sopra noi Per mezzo di Gesù Cristo E il tuo figliuolo Intercediamo in questo momento Gli uni per gli altri Signore E noi ti preghiamo Che Ciascuno di noi Possa essere riempito Di Spirito Santo In questo giorno Signore Che nessuno Ti lasci passare oltre Signore Con la fede Di quella donna Di cui abbiamo sentito Ieri sera Noi non vogliamo Semplicemente Toccare il lembo Della tua veste Seppur questo è sufficiente Noi vogliamo Abbracciarti Signore Noi vogliamo dire Col saldista L'anima mia L'anima mia Si lega a te Per seguirti Signore Insieme a Mosè Ti diciamo Possiedici Come tua eredità Facci essere tuoi Crea che Fa che questo legame Che si crea Signore Possa essere profondo Sincero Duraturo Caratterizzato Dall'amore Perché la Chiesa Si è edificata E perché il mondo Si è conquistato A Cristo Ti preghiamo Signore Ciascuno Per il proprio fratello Per la propria sorella In questo momento In un'intercessione Generale Noi ti chiediamo Che nessuno Faccia Trascorrere Il termine Di questi tre giorni Senza Fermarti Senza Chiederti Di avere Un momento Di comunione Ancora più Intima E profonda Con te Ed in questo momento Signore Io ti chiedo Di affiancare Quanti sono Sulla via Del mouse Per portare Loro chiarezza Per portare Loro Consolazione Per dare Loro Speranza Per via Della tua Resurrezione Gesù E per via Del fatto Che tu sei Sul trono E regni Alleluia Regni Signore Gesù Sei il nostro Re E ti prego Signore Per quanti Non hanno ricevuto Il battesimo Nello Spirito Santo Signore Battezza Nello Spirito Santo Riempi Ciascuno Di noi Del divino Fuoco Signore Vogliamo Tornare Alle nostre Case Trasformati Per fare La tua Volontà E noi Per questo Ti ringraziamo E noi Per questo Ti benediciamo E noi Per questo Continuiamo A fidare Le nostre Vite Nelle Tue Mani In Gesù Cristo Benedetto In Eterno Amen Eterno 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 Eterno